Ben trovati oggi nello studio del telegiornale di Cilento Channel, sono venuti a trovarmi due amici e anche due artisti. Allora, partiamo dal primo artista, Antonio Boria, cantautore cilentano, l'orgoglio della nostra terra. Benvenuto Antonio. Ciao Gianni, ciao a tutti. E poi Aldo Olivieri, presidente della Proloco Sviluppa Agropoli, artista non cantante come Antonio, ma sicuramente una persona piena di idee, intraprendente e soprattutto bravissimo ad organizzare manifestazioni di spettacolo. Proprio questa sera parleremo della sua manifestazione in occasione del carnevale di Agropoli, inserito all'interno la corrida. La corrida è arrivata all'edizione numero 3 e insieme ad Aldo Olivieri e Antonio Boria ne parleremo per presentarla a voi, pubblico di Cilento Channel. Allora, partiamo dalla data Aldo. L'appuntamento per assistere dal vivo e anche in diretta della corrida? Sì, come già anticipato tu, la corrida è un evento ormai rientrato nel programma del carnevale di Agropoli. Si terrà lunedì 8 febbraio presso il Palazzetto dello Sport alle 19.30. Quindi vi invito ovviamente a partecipare, altrimenti a seguire la diretta che si terrà sul Cilento Channel 636 del Digitale Terrestre, giusto? Perfetto, sei un ottimo promotore anche televisivo. E in tutto questo poi continuiamo a parlare di corrida, come è strutturata, insomma, come è organizzata. In tutto questo c'è questo amico, personaggio davvero incredibile, conosciuto anche a livello internazionale, possiamo dirlo. Antonio Boria, originario di Rutino. Di Rutino, cresciuto da Agropoli però. Cresciuto da Agropoli. Io infatti sono affezionato a questa cittadina, abbiamo registrato un sacco di video di promo, il mio video musicale l'abbiamo registrato qui a Trentova. In più quest'anno mi sento abbastanza emozionato perché a parte non mi aspettavo questo invito alla corrida, che è molto sentita da Agropoli. E poi la location è una location storica e che mi ricorda tante cose del passato perché io in quel palazzetto ci ho giocato, giocavo a basket con il grande Enzo De Concilis, che saluto. Poi purtroppo madre natura non mi ha dotato di quella statura da cestista, quindi in effetti sono rimasto un mezzo playmaker. Alla fine, ho deciso di seguire un'altra carriera, la musica mi ha portato… Ci sei riuscito bene, diciamolo. Allora, Antonio è una star in Giappone, in Cina? In Cina, in Cina, in Cina, Repubblica Popolare Cinese. Mi hanno corretto la RAI perché mi hanno detto che è più giusto dire Repubblica Popolare Cinese. Raccontiamo tutta la storia dall'inizio, non vorrei lasciare poi degli… Diciamo che alla corrida, allora tu sei stato invitato da Aldo Livieri a partecipare alla corrida e se ci puoi anticipare insomma quelle che saranno le tue esibizioni, ce lo puoi dire? Ma esibizioni non si sa se ci saranno delle esibizioni. Eh, io mi auguro che ci siano, Aldo. Ci sono riservati il beneficio del dubbio. È una sorpresa. È una sorpresa, però di sicuro ne vedremo delle belle perché, a parte che in giuria abbiamo come Presidente il grande Ceccherini che ci farà morire dalle risate, secondo me. Poi vabbè, è una bella giuria, ci sono tanti agropolesi, ci sono… Tra tutti citiamo il parroco Don Carlo, Mirella Russo, Gerardo Benevento, ormai storici anche loro, presenti sempre, no? Il Presidente dell'Associazione Il Carro, Luca De Rosa, ci sarò anche io a rappresentare appunto la Proloco anche. Diciamo che è una bella giuria, scelta tra le varie personalità agropolesi, possiamo dire. Ovviamente il Presidente di giuria sarà l'attore comico Massimo Ceccherini che stiamo aspettando e anche il nostro ospite Antonio Voria. Beh, io sono tornato a posto dalla cinta. Per la corrida di Agropoli. Per la corrida di Agropoli, no, in effetti sono rientrato a Roma, poi da Roma sono stati su Milano, Venezia, abbiamo registrato un programma che ripercorre le tappe della Via della Seta, tutto il percorso di Marco Polo. Quindi si parte da Venezia e la trasmissione di Venezia l'hanno girata con me, quindi l'ho fatto da co-presentatore, da ospite, quindi è stato un grandissimo onore per me. Bello, io nell'occasione colgo appunto la possibilità di pubblicizzare il CD di Antonio Voria con nove pezzi all'interno. Sono nove, nove in totale, sì, sì, sì. Allora, quando è uscito questo CD? È uscito in distribuzione digitale a livello mondiale, diciamo, è uscito un mesetto fa. Però la produzione è una produzione che era in pentola da un bel po' di tempo. Il brano numero 8, non a caso alla traccia 8, perché in Cina l'8 è il numero fortunato, è un brano cinese, è un brano molto conosciuto in Cina, è un brano di musica tradizionale che io ho riproposto in chiave moderna. Sì, quindi gli ultimi tre brani sono delle cover, una cover in giapponese, una in cinese, l'altra nel Blu dipinto di Blu, mi sembrava giusto chiudere il cerchio con un brano che... Di un grande italiano, no, che ha portato la musica in tutto il mondo. Ha portato la musica italiana in tutto il mondo, sì, perché parte dopo Sole Mio tutti conoscono Volare, quindi è un brano famosissimo in tutto il mondo. Quindi mi sembrava giusto inserirlo in questo contesto, infatti canto in quattro lingue, il primo brano So Beautiful in inglese, poi altri brani italiani, nati poi tra l'altro da una collaborazione con un altro cilentano, Francesco Volpe, che saluto, di rutino. Sta andando bene, sta andando bene, un sacco di tracce le utilizziamo spesso anche per dei programmi televisivi in Cina, quindi... Diciamo che nonostante non ci fosse tanta promozione, tanto marketing, il... Sei molto soddisfatto del risultato. Sono abbastanza soddisfatto, poi sai com'è, è la prima esperienza, è il primo lavoro discografico, quindi non è mai buona la prima, quindi c'è sempre tempo per migliorarsi. Sì, bisogna fare esperienza, no? Poi passiamo un attimo ad Aldo Livieri, io voglio fargli una preghiera. Mi piacerebbe ascoltare durante la corrida Antonio Moria cantare in giapponese. Si può? Me la prometti? Diciamo che non è una scelta mia, sceglie il nostro ospite, per me è un onore, anche perché, come dicevo anche precedentemente, oltre ad avere l'onore di ospitarlo, anche il piacere di ascoltarlo, uno dei nostri obiettivi è anche quello di far conoscere la storia di Antonio, un nostro concittadino che per bravura sicuramente è diventato famosissimo, uno showman ormai, anche perché comunque è il primo, se non erro italiano, a cantare il cinese mandarino nella nostra zona. Non è questo primato. No, il primato assoluto è un altro. Ho cantato un brano cinese, che ho tradotto per metà in italiano, sulla rete nazionale cinese, la CCTV3, che è un po' l'equivalente della nostra RAI, quindi per intenderci. Sicuramente però sarà il primo donnaiolo italiano, questo lo dobbiamo dire. Il primo donnaiolo, possiamo dire. Questo rimanga tra di noi. No, a parte gli scherzi, è un bel ragazzo, quindi suppongo che le cinesi ti facciano il filo, no? La fine del concerto, dai, puoi sbottonarti sul cilento. Ho dei followers, ho dei followers. Ecco, diciamo che ha dei followers. E porti avanti il nome del cilento di Agropoli. La bandiera alta. Senti, che cosa ne pensano, cosa pensano di noi nella Repubblica Cinese? Ah, i cinesi hanno una grandissima considerazione, gli italiani. Nello specifico, perdonami, dei cilentani proprio, anche se sono pochi coloro che la conoscono. I cilentani... Però so che hai portato qualche trucco in giro. Io ho portato qualcosa, infatti sono partito con il mio primo video musicale. Tra l'altro il brano è contenuto in questo cd, si chiama Solo Immagini. L'abbiamo girato proprio a Trentova, allo scoglio del sale. Poi, dopo un annetto, ci sono ritornato. Abbiamo girato delle riprese, delle esterne, per questo programma strafamoso in Cina, l'equivalente del nostro Uomini e Don, ma lì è seguito la seconda trasmissione più seguita dopo le news della CCTV. Quindi ti dico, ascolti stratosferici, si parla di cifre stimate di 400 milioni di telespettatori. Perché è andato in replica due volte, poi in tutti gli streaming. Nel resto del mondo la comunità cinese segue la televisione nazionale, attraverso il web. Quindi ho ricevuto email da cinesi di tutte le parti del mondo, compresi quelli... E invece i maschietti cinesi sono gelosi del tuo successo? Ma ti dirò, il cinese non è un indole così geloso, così chiuso. Sembrerebbero, perché magari in Italia tendono a far gruppo tra di loro, ma invece in Cina sono, secondo me, io posso dire che mi trattano davvero come uno di loro, mi trattano con il massimo rispetto e il massimo dell'apertura. Senti, facciamo una parentesi invece dal punto di vista del lavoro. Sì. I giovani, oggi in Italia, lo sappiamo tutti, c'è la crisi. C'è possibilità per un giovane imprenditore di fare impresa in Cina? Secondo quello che hai potuto vedere, magari, non lo so. Io credo di sì, perché le belle idee sono sempre apprezzate e i cinesi sono molto propensi ad investire su idee valide, progetti validi. Quindi secondo me sì. Però un errore che fanno tanti italiani, dicevamo anche prima con Aldo, che non siamo capaci a far gruppo. Sì. Non riusciamo a fidarci gli uni degli altri. Cosa che invece magari gli americani sono notoriamente bravi a vendere dei progetti, a vendere dei marchi, delle strutture, per dire McDonald's, McDonald's, in qualunque paesino sperduto nell'entroterra cinese, trovi il McDonald's. O lo Starbucks, cosa che in Italia magari non esiste neanche perché non ha mercato. Diciamo che in Italia c'è la voglia di fare il leader, quindi c'è una corsa sfrenata a chi rimane all'apice del gruppo, o meglio a chi vuole rimanere, ce ne sono tanti, e quindi alla fine non si conclude niente di essenziale. Il gruppo non si... I francesi invece sono molto più... Uniti. Uniti, sì, sì, riescono a vendere bene anche i loro prodotti, cosa che noi italiani secondo me non siamo ancora capaci di fare. A parte di distinguo aziende come Ferrero, piuttosto che... Beh, storiche, radicate. Che comunque hanno una struttura, una mentalità molto più aperta, international, un approccio più international alla cosa, quindi riescono a gestirlo. Poi c'è una storia, c'è un marchio... Un marchio che è partito all'inizio... Sono dei marchi che lavorano benissimo in Cina. Io infatti... Sono consolidati. Ho avuto l'onore di presentare il Panda d'Oro, è un premio che è indetto dalla Camera di Commercio Italiana in Cina, che vincono le aziende che si distinguono nel mercato cinese. Io ho avuto l'onore di presentare questo evento accanto ad Eter Parisi. Quindi non solo cantante, ma anche presentatore. Anche presentatore, all'occorrenza. Tra l'altro, due anni fa, tra l'altro per metà anche in cinese, quindi non era molto semplice, però voglio dire... Te la sei calata bene? Sì, direi di sì. Che dicono le critiche? No, 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 sono stati tutti soddisfatti. Alla fine abbiamo premiato Ferrero, Ferrari e Bulgari. Sono i tre marchi che si sono distinti in Cina. che vanno fortissimo. Aldo, per chiudere, quanti partecipanti alla corrida vedremo in gara? Allora, abbiamo selezionato 20 partecipanti, in più c'è la possibilità appunto di selezionare un altro concorrente, domenica 7 febbraio in Piazza Vittorio Veneto si terrà il karaoke sotto i coriandoli, quindi questo karaoke all'aperto dove sarà possibile appunto cantare e in quell'occasione avremo la possibilità di selezionare un altro concorrente che parteciperà alla terza edizione della corrida. Perfetto. Che dire in conclusione della nostra chiacchierata? Come vedete in regia Andrè sta facendo vedere in sovraimpressione la locandina. Carina, ecco vedete carina come sempre, il giallo poi secondo me ha sempre un impatto unico per presentare questo tipo di manifestazioni, possiamo definirle anche spensierate, allegre insomma, cioè quando arriva la corrida ecco ci si rilassa, no? Per il momento dove i pensieri non ci sono. Non ci sono, l'anno scorso il grandissimo successo che abbiamo avuto con un palazzetto pieno proprio al culmine della capienza, quest'anno abbiamo anche posti in più, giusto? Sì, perché ci sono le tribune. Ci sono le tribune, quindi invitiamo tutti coloro che hanno ancora la possibilità di scegliere la data dell'8 febbraio di venire al palazzetto dello Spò. Armatevi di pentole, fischietti, campanacci perché vogliamo ricordare che dopo il secondo minuto di un'esibizione scoccherà il semaforo verde e quindi la giuria popolare dovrà esprimere appunto il proprio parere dell'esibizione attraverso appunto questo caos. Avete seguito i canoni della corrida di Corrado. Siamo ispirati, sì, al famoso talent di Canale 5. Che bello, era particolare la voce di Corrado. Vero. Bene, allora, non mi resta altro che ringraziare i miei amici, nonché ospiti di Cilento Channel, partendo da Antonio Voria, grazie per essere stato qui. Grazie a te, grazie a Aldo per l'invito. Ti aspetto in una prossima occasione, magari approfondiamo meglio quella che è stata e sarà la tua carriera, con le novità che ci ritai. E Aldo Olivieri, presidente della Proloco Sviluppa Agropoli, continua così, stai lavorando bene. Ti ringrazio. Noi ti seguiamo. Noi siamo una squadra. Esatto. Justamente lui diceva che il problema era proprio questo. Qua si parla tanto di rete, di collaborazione, però tra il dire e il fare c'è di mezzo tantissime cose. Noi nel nostro piccolo, cerchiamo anche con voi di Cilento Channel, perché siete una squadra veramente meritevole, lo dico ad alta voce, cerchiamo nel nostro piccolo di combattere questa cosa, unendoci e fare rete, però nel vero senso della parola. Almeno ci proviamo. Bene. Grazie ai miei ospiti, grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è rinnovato a una prossima volta.